Innanzitutto grazie al MoVimento 5 Stelle per questa opportunità, perché realmente non è una frase di comodo, ma forse è la prima volta che in nemmeno un mese, un mese e mezzo, in questo Parlamento, io insomma ho i capelli bianchi, si riesce a parlare e fare due convegni, in cui si parla dell'Alba e in cui si parla dei BRICS, cioè di quelle aree che in maniera diversa si oppongono alle politiche usurai e distrozzinaggio che sono entrate in vigore nel 44 dicendo che queste politiche dovevano chiudere una fase di dittatura che era quella drammatica nazifascista e hanno imposto invece dittatura finanziaria ed economica contro i popoli. L'altro giorno io ringrazio ovviamente Alessandro Di Battista e lo voglio ringraziare in due modalità, una la sottolino di più, prima perché siamo amici, ci vogliamo bene pur non conoscendoci da poco tempo, quindi c'è una stima, ma lo ringrazio politicamente per il coraggio che ha di mettere in piedi non solo queste iniziative ma per quello che fa quotidianamente. Non ho nessuna vergogna a dirlo come marxista che mi ritrovo su molte e quasi tutte le battaglie che si stanno facendo e prima dicevo a Sibiglia, dico rinuncia a una parte del mio intervento perché hai detto quello che io avrei detto. Permettetemi perché siccome giustamente ci dice Alessandro abbiamo dato giustamente spazio ai relatori dei BRICS e dobbiamo essere veloci, mi fa tornare un pochettino giovane Alessandro perché dovrò parlare un po' per slogan e quindi siccome gli slogan li facevo da giovane ma li faccio anche adesso mi diverte stare in mezzo alla gente nella piazza e quindi vi ringrazio per vostro essere nel governo e nelle piazze anche vicino alle organizzazioni politiche e sindacali a cui faccio riferimento come l'USB perché giustamente dice Alessandro non è che noi stiamo con un sindacato o un altro, stiamo con quelli che sono i problemi che hanno i lavoratori e che hanno i cittadini. Una battuta per farmi divertire dell'altro giorno un signore che non faccio il nome solo per rispetto, uno che ha una lunga storia nel movimento comunista mi ha detto Luciano non ti vergogni ad andare ad un altro convegno dei grillini, ho detto perché non ti vergogni tu che hai abbandonato tutte quelle che erano le ipotesi della sinistra e oggi affossi quello che è stata una gloriosa storia e io mi devo vergognare di essere marxista per quello che voi state facendo e per come non siete più di sinistra. Bene due cose fondamentali oggi è un giorno importante io penso che con ieri con il lacumbre con il vertice di ieri finalmente si chiude una lunga drammatica storia di 71 anni che è la storia maledetta di degli accordi di Bretton Wood perché dico questo perché tanti anni fa c'è stata una crisi tipo quella di oggi che è stata presentata come una crisi finanziaria se guardate i film del 1929 la gente che corre come oggi il popolo greco a ritirare i soldi dalle banche eccetera una crisi finanziaria invece una grande crisi economica una grande crisi economica una crisi di accumulazione di sovra accumulazione del capitale in cui però nel 29 se ne riesce a uscire con poche mosse le mosse quali sono state ovviamente c'era un modello per il capitalismo di accumulazione differente il fordismo il terrorismo è stato aiutato da una persona estremamente intelligente pur non appartenendo alla mia scuola che è stato Keynes che ha dato spinta a quella che era la spesa pubblica più che la spesa sociale no la spesa pubblica la spesa è diventata sociale quando il movimento dei lavoratori è stato forte quindi con la domanda pubblica ma non si esce con new deal come al solito dalle grandi crisi economiche purtroppo si esce con la guerra si chiude la crisi del 1929 con la seconda guerra mondiale qual è l'atto nuovo oltre al dramma dei milioni di morti l'atto nuovo è l'accordo di breton wood in cui in pratica si dollarizza il mondo si impone al mondo con la scusa della riserva in oro eccetera si impone al mondo una moneta quella moneta appunto il dollaro e dove non c'è questo accordo si risponde in tre maniera uno altro che con la fine delle guerre con le tante guerre ricordo la guerra di corea o la guerra del vietnam ricordo una guerra economica che è stata lanciata con il piano marshall questo maledetto alessandro ci dobbiamo occupare di questa questione questo maledetto prodotto interno lordo che misura soltanto lo sviluppo quantitativo viene sorretto attraverso anche la spesa pubblica keynesiana in quale maniera soltanto con i piani marshall cioè con la ricostruzione prima di bombardo e ti distruggo dopo ricostruisco per sostenere il mio pil ed è quello che si fa oggi in libia in ira che in tutte le parti non è cambiato assolutamente nulla 1971 valo velocissimo alessandro si chiude per decisione unilaterale degli stati uniti si chiudono gli accordi di bretton wood uno direbbe meno male si fine della dollarizzazione no si passa dal dollaro al petrodollaro cioè tutto il mercato del petrolio viene dollarizzato il petrolio è l'unica risorsa per lo sviluppo il maledetto sviluppismo di questo sistema per cui se tu vuoi accedere alle risorse naturali o al dollaro ovviamente al petrolio devi usare i dollari per cui che cosa succede che gli stati uniti hanno un modello importatore basato sul debito emettono titoli del debito pubblico da una parte bisogna comprare questi titoli e sorreggere questa economia che vive al di sopra delle proprie possibilità che è l'economia appunto statunitense viene dollarizzato ulteriormente il mondo guida questo dura fino al 1989 altra data finisce la cosiddetta guerra fredda finisce l'unione sovietica che cosa si dice si apre un periodo di pace il periodo di pace si chiama guida unilaterale degli stati uniti in cui ci sono 120 conflitti signori conflitti non dichiarati tutte le guerre dell'africa tutte le grandi guerre dice è finito il periodo della guerra non c'è più l'unione sovietica non è così per imporre questo dominio continuano le guerre dove non basta la guerra militare c'è la guerra economica la guerra economica significa fondo monetario internazionale significa troica dall'altra parte si costruisce grazie a questa mia mi vergogna a dirlo mia nel senso di appartenenza devo rivendicare questo grazie a questa mia sinistra si costruisce c'è una grande ipotesi dei popoli che è la grande ipotesi dell'europa di ventotene dell'europa sociale eccetera che invece significa imperialismo dell'unione europea che passa attraverso i governi di centro-sinistra dei signori d'alema prodi giospenne blair e compagniava cantando questi governi devono e vogliono far passare il polo imperialista europeo perché se le politiche affamatorie contro i lavoratori gli fa berlusconi viene facile per tutti noi dire il signor berlusconi fa i suoi affari se invece li fanno la sinistra i sindacati cgl cisterville non si scende in piazza perché si va contro i nostri padroni che sono la sinistra e sono il governo bene questa storia continua viene questo polo imperialista nasce intorno alla germania quindi un polo europeo germano centrico in cui come tutte le guerre c'è la guerra commerciale le aree commerciali il modello esportatore della germania deve essere sorretto da che cosa da una non ti preoccupare non ci metto tanto e noi viene sorretto da che cosa dalle stesse politiche che fanno gli stati uniti gli stati uniti pur avendo un modello importatore delocalizzano e deindustrializzano e usano l'america latina assolutamente come loro colonia e dall'altra parte usano il dollaro da questa parte il modello esportatore che cosa fa fa la stessa politica degli stati uniti invece delle importazioni ci sono le esportazioni se la germania esporta ha un surplus finanziario questo surplus va investito il surplus deriva dall'industria quindi come gli stati uniti avevano la colonia che era l'america latina qui si forma una colonia che siamo noi i terroni siamo noi adesso da terroni siamo passati a magliali siamo i pigs noi i magliali veniamo colonizzati e veniamo colonizzati in questa maniera deindustrializzando le nostre economie primo delocalizzando le nostre economie precarizzando il mondo del lavoro creando la colonia che sono appunto e l'area e l'area mediterranea e imponendo un'area monetaria che marco centrica l'euro viene costruito sul marco e grandi economisti che sono stati alessandro i nostri genitori che cosa hanno detto compro con un euro a 2000 lire quello che contravo con mille lire cioè in pratica viene indotta un'inflazione che dimezza il potere d'acquisto del nostro salario però c'è un però l'unione europea e la germania questo potere hanno un potere economico ma non hanno un potere militare come si risolve il problema del dominio senza il potere militare con la dittatura finanziaria ed economica con la guerra economica e torno da due giorni due giorni fa ero in venezuela qui finisco con alcuni esempi permettetemi eccetera mi sono incontrato con il governo con maduro mi sono incontrato con orga reazza con il ministro dell'economia della pianificazione con riccardo menendez e lì parlavamo di difficoltà di contraddizioni ma di come bisognava investire socialmente come le contraddizioni anche della repubblica bolivariana del venezuela dovessero essere risolte con investimenti sociali con un ruolo importante del banco sur e del banca dell'alba che cosa bisognava fare per allargare le missioni per dare più case per dare più scuole quali erano le risposte da dare alla guerra economica vergognosa degli stati uniti che stanno opprimendo un processo di autodeterminazione come quello venezuelano a cuba lo fanno con il blocco in grecia lo fanno con il debito continua questa politica bene io concludo in una maniera soltanto è stato detto tanto sui brics eccetera voglio fare qualche esempio da una parte abbiamo da una parte abbiamo la troica il fondo monetario internazionale la bce la banca mondiale che con i piani di aggiustamento strutturale hanno distrutto le potenzialità di autodeterminazione dei popoli hanno fatto gli usurai al punto che l'argentina e l'ecuador per poter uscire dalla loro crisi imposta dal fondo monetario internazionale hanno dovuto fare un ragionamento molto semplice arrivederci e grazie noi i soldi del debito non ve li ridiamo e i soldi che dovevamo dare a voi al fondo monetario internazionale e alle vostre politiche di strozzinaggio che facevano sì che non potessimo pagare neppure gli interessi perché erano interessi usurai noi li dedichiamo a investimenti sociali e l'amico e carissimo intelligente economista che si chiama correa dice al fondo monetario internazionale signori fuori dal nostro paese l'altro giorno c'era pure alessandro siamo stati a milano con evo morales evo morales ha detto sapete come ho risolto il problema col fondo monetario internazionale dicendo andatevene dal mio paese non entrate più ce la risolviamo noi bene da una parte c'è la bce la bce presta all'uno per cento sono bravi solo che prestano all'uno per cento al sistema bancario le nostre risorse a ragione sipras e a ragione sirizza per far comprare i titoli del debito pubblico che la grecia è costretta ad emettere al 20 25 per cento lucrando senza investimenti produttivi e creando anzi disoccupazione precarietà e morti nel mediterraneo perché la colpa è loro dei morti che avvengono nel mediterraneo perché la colpa non è di chi come mio padre doveva emigrare per andare a trovare lavoro e chi non gli dà la possibilità e poi basta con questa ipocrisia da una parte delle multinazionali e dalla parte di questo pd vergognoso facciamogli elemosi ne diamo qualcosa all'afi ma diamogli la possibilità di svilupparsi di creare un proprio modello di autodeterminazione economica c'era basta con queste forme di colonialismo e di imperialismo bene lì non si produce si fa finanza e si fanno soldi si fanno semplicemente soldi c'è anche la banca del sud che presta all'uno per cento presta all'uno per cento con una restituzione dei fondi a 40 anni per fare cooperative per fare investimenti investimenti sociali per fare le missioni in venezuela per permettere all'alba di dimostrare che un altro mondo è possibile ed è concreto fuori dalla logica del profitto ma con la solidarietà la complementarità con il sucre con una moneta di conto compensativa che compensa ovviamente lo dice la parola stessa quelli che sono gli interscambi senza passare per la dollarizzazione mi fanno segno di finire e allora finiamo alla grande ieri si è chiuso il vertice dei brics lì si fa una banca che vuole finanziare le infrastrutture vuole finanziare gli investimenti sociali bene dall'altra parte invece si privatizza tutto da una parte si fanno le missioni come sta facendo il grande governo maduro e stanno gli investimenti sociali dall'altra parte invece si taglia lo stato sociale si taglia completamente lo stato sociale bene da una parte si dice complementarietà dall'altra parte si dice profitto da una parte si dice precarietà ieri dati che sono usciti sul venezuela il venezuela ha dimezzato in quest'ultimi anni nonostante la guerra economica ha dimezzato il tasso di disoccupazione da una parte i ragazzi e i miei figli i vostri figli non hanno case non si possono permettere di di fare delle case dall'altra parte si danno le case gratuiti ieri nasce questa grande ipotesi dei brics che non sono come l'alba l'alba ha già una traiettoria di transizione socialista i brics però dicono vogliamo il nostro spazio autodeterminato voglio concludere con questa battura ieri nella vertice dei brics si parla dell'università dei brics cioè un'università basata come le università come l'università bolivariana come l'università di cuba e c'era sulla cultura pubblica sulla gratuità sull'innovazione sulla possibilità che docenti come me possono dire quello che vogliono e poi si può sentire o meno e dall'altra parte il grande governo di centro-sinistra la grande possibilità di espansione la grande speranza dell'umanità fa una delle leggi più vergognose che conosce questa repubblica che è la legge per privatizzare il sistema scolastico questa è una vergogna lo ha detto alessandro questa è la casa del popolo italiano si vergognasse questa sinistra si deve vergognare lo dice un marxista convinto devono andare a casa perché non c'è una prospettiva con una sinistra che massacra il popolo italiano grazie Grazie.